Ciao, ti faccio vedere la mia camera in Norvegia. Sono appena arrivata, ho appena fatto il check-in, vedi che ho ancora la valigia qui pronto per disfare. Quindi nella mia camera trovi un televisore, un telefono, un desk che mi serve per lavorare, trovo un frigo vuoto, quindi poi gli posso mettere le bevande che compro. Posso prepararmi una bevanda calda che trovo il bollitore spessissimo, negli alberghi troviamo il bollitore con il tè e il caffè accanto. Poi c'è l'ho anche un armadio, vedi armadio, sì sì, questo si chiama armadio aperto, ma pratico, semplice, essenziale, minimalista, come tante cose in questi paesi nordici, ma va benissimo, che posso poi mettere la valigia una volta disfatta. Poi trovo un bel letto comodo, bel letto, grande, matrimoniale, vedete, colori belli, caldi, accoglienti. Per l'estate in questo hotel trovo non il condizionatore, ma un air cooling system che mi garantisce l'abbassamento della temperatura di 2-3 gradi rispetto alle temperature interne, se ci fosse magari in quel caldo a numero che qualche volta succede. Qui trovo anche il sistema di antincendio, vi ricordo che in Norvegia è vietato fumare nelle camere, quindi appena sente il fumo questo si accende e ci sono dei penali delle molte belle salate, quindi ricordatevi di non fumare in camera in Norvegia. Ecco la mia camera, vi faccio vedere il bagno, perché bagno è un po' diverso rispetto ai bagni in Italia, non c'è il bidet. Preparatevi, non troverete bidet in camera standard, magari nel suite, nel junior suite, sì, ma nelle camere standard non c'è mai il bidet e nella doccia trovate sempre il dispenser per lavarvi i capelli al corpo e come anche accanto al lavandino trovate il dispenser per lavarvi le mani. quello che è simpatico, non troverete mai dei bicchieri di plastica perché è un paese che è molto attento all'ambiente, quindi bicchieri di vetro in bagno, trovate allora il dispenser per lavarvi le mani, un telo piccolo, un telo grande e un foam. Questo vi piace? Questo sarebbe un'altra stella superiore. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.